Oggi siamo scesi in piazza nella manifestazione Sottilucidio. Siamo scesi in piazza contro la devastazione ambientale, contro l'avvelenamento dei nostri territori. Proprio dopo l'inchiesta che ha inchiodato De Luca, ci sembrava appunto doveroso scendere in strada insieme ai comitati, alle associazioni che ogni giorno lottano per salvare la propria terra. Grazie per la visione!